e ne mancano due di la c'è il buco così se va dentro in davanti fai come lui ti ho detto che faceva così ti ho detto che faceva quel lavoro bravo e si figaro di lì è tosta mi sa di si allora se tieni quel legno lì lo puoi fare ma vai a cagare quando arriva qui dietro vai giù guarda se li ha col fil di ferro di lì non vai giù si spacca quando prende il colpo col dietro devi farlo col fil di ferro ma non tiene eh vedi che è già lì ma non tiene secondo me bisogna andare giù a prendere quello là guarda c'è lì anche il ferro lo rimettiamo dentro questo è legato si è cazzarola no oh oh ma non c'è il ferro non c'è il ferro ma devi sentarlo abbastanza non c'è il ferro non c'è il ferro non c'è il ferro non c'è il ferro no così non va bene non c'è il ferro non c'è il ferro è vero è vero è vero è vero è vero è vero hai visto come ho fatto io non puoi rischiare se ti scappa via ti ammazzi dai dai ormai siamo passati è un lavoro del cavolo perché mi sta sudo dalle però va bene nonno no 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 No, 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 no. Prova, è da filmare questa cosa, però, eh. Già, ti è da filmare questa cosa, eh. Da filmare. Certo. Forza, oh, da dove c'è le gambe? Sì, non c'è, ma che sale da solo, questo, eh. Non diamo un po' di poche, vorrebbe che sale da solo. Ah, vorrebbe che sale da solo. Sì, con l'arganetto. Andiamo? Basta, andiamo, andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Lo so che cane si nasce, lo so. Allora, come vuole fare? Guarda, noi prima volta lo faccio, però non ce la diamo. Senta l'acqua? Sì. Senta l'acqua. 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 Con questo è rientrata. Non c'era quel buco sotto lì, allora si faceva. No, se non c'era il buco ci provavo. E quando non c'era il buco? Sì, quando c'era il buco si faceva. Sai cosa c'è? Bisogna mettere i sassi, i sassi, i sassi. Eh, ma te li dava via tutti. Quando arriva l'acqua che fa così? Te li dava via tutti. Eh, arriva su al ponte quando è pieno. Arriva la piena. Sì, lo facciamo in tempo. Dile a lui quando è andato su di lì a vedere. No, andiamo.